Non crederete, abbiamo fatto un casino, oh mio dio, ai vostri occhi, mio figlio poteva morire, in questo episodio di... Dalle stalle alle stalle, la serie più povera di YouTube. Visto che nel primo episodio della serie non ci siamo ripagati l'iscrizione, ho dovuto ricaricare l'account. Ho speso 10 euro per comprare 10 ticket, di cui 8 sono serviti per l'iscrizione a questa seconda lega, mentre conserveremo i due rimanenti. Ho vinto ben 4 incontri su 5, rispettivamente contro Affinti, Aure, Elfie e Tron, mentre ho perso solo contro Stompy. Con il mio risultato ho vinto 4 scrigni promo, che ho venduto per 9 ticket, e 80 punti giocatore, che assieme ai 50 che avevamo prima fanno 130. Così finalmente siamo riusciti a comprare Thorn of the Black Rose per 5 ticket e aggiungerla al mazzo al posto della NERTH. Stavolta non è andato affatto male, ne abbiamo speso 10 euro, ma ne abbiamo guadagnati 9. Praticamente li abbiamo recuperati tutti. Adesso ci rimangono 6 ticket e 130 punti giocatori, che utilizzeremo per iscriverci alla prossima lega per provare il mazzo completo. Riusciremo anche la prossima volta a fare così bene? Per continuare a giocare ci basterà vincere almeno 2 incontri su 5, ma noi ovviamente puntiamo il guadagno. Lo scoprirete solo guardando Dalle stalle alle stalle, la serie più povera di YouTube.